Solo la Dugout, fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato, promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte, fino a 5.000 euro su classe A e classe B, fino a 10.000 euro su classe C Berlina. Arriva il via libera senza prescrizioni dalla conferenza dei servizi al progetto esecutivo per la bonifica del primo lotto dell'isochimica, un risultato importantissimo che da merito all'impegno messo in campo dal responsabile del procedimento sullo e dell'intero staff del settore. I lavori, precisa l'assessore Penna, inizieranno in primavera. Ad agosto di quest'anno abbiamo abbattuto i silos che svettavano sui cancelli di isochimica e che rappresentavano il simbolo dell'anteposizione degli interessi economici all'interesse generale e alla salute dei cittadini. Il primo passo di questo raggiungimento, di questa tappa, è la rimozione di tutti i cubi, dei 500 e oltre i cubi presenti sull'area. È stato approvato il progetto esecutivo, è stato ottenuto il parere favorevole di tutti quanti gli enti coinvolti. A breve ci sarà la gara e la rimozione di questi 500 cubi. Successivamente ci saranno le altre tappe, cioè la rimozione di tutto il resto del materiale, l'abbattimento dei capannoni e quindi quell'area potrà essere restituita alla città. Si potrà guardare a quel quartiere che fino ad oggi era considerato periferia da evitare con occhi diversi, perché in quel quartiere è previsto in tutti i programmi regionali e nazionali la riqualificazione della stazione ferroviaria, sono previsti una serie di interventi di riqualificazione urbana, quindi possiamo vedere, guardare con serenità e con nuova speranza alla rinascita di quel quartiere che può essere trainante sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale.